Durante lo svolgimento della Dakar 2024 i fratelli aquilani Totani sono saliti alla ribalta internazionale perché durante una tappa di due giorni senza alcun tipo di assistenza hanno prestato aiuto a un equipaggio olandese il cui camion si era ribaltato dopo essere finito in una fossa in pieno deserto arabico. Per questo motivo i consiglieri comunali Livio Vittorini e Mauro Accastellani del gruppo consigliere di Fratelli d'Italia hanno chiesto un impegno al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi a riconoscere mediante un'apposita cerimonia lo straordinario merito sportivo umano e valoriale dei fratelli Silvio e Tito Totani orgoglio di tutta la città dell'Aquila. Vorremmo appunto che il sindaco vogliamo impegnare con quest'ordine del giorno il sindaco affinché appunto si organizzi una cerimonia proprio per dare un valore loro non solo sportivo riconoscere questo valore non solo sportivo ma anche e soprattutto per il salvataggio che hanno fatto. I fratelli Totani in maniera spontanea e autonoma ci hanno chiesto di voler portare il simbolo dell'Aquila che rinasce la città che loro amano come noi amministratori su quello che è il palcosceno più importante al mondo delle gare di rally, la Dakar. I fratelli Totani incarnano e hanno già incarnato nelle cinque passate edizioni lo spirito della Dakar e lo spirito dell'Aquilanità per questo con la collega Castellani e con l'ok del sindaco per Luigi Biondi abbiamo deciso di portare oggi in Consiglio Comunale una mozione che vorrà far riconoscere i fratelli Totani come ambasciatori nel mondo dell'Aquilanità.